cioè che abbia segni neurologici evidente ora guardate manco ci vede sembra una forma di cecità e poi non deambula sbanda mette le zampe invece di appoggiarle così le appoggia così quando mai ho toccato a cleopatra cleopatra che ti è venuto bella che poi stava sempre nascosto ultimamente quindi era difficile pure vederla cioè domenica è uscita dalla sua tana correva camminava normalmente oggi stamattina trovarla così veramente cleopatra sembra come se cieca no no ci vede ma quando mai cleopatra si è fatta toccare ora vediamo se mangia non è manco una gatta ora perché sta male sicuramente riesco a toccarla ma quando mai io quando stava bene l'ho toccata a cleopatra